Nel pieno della crisi la regione guarda avanti e punta sullo sviluppo, firmato oggi il piano di aiuti al lavoro e all'occupazione, soprattutto per giovani e donne, soddisfatto il presidente Errani, è un esempio per tutto il paese. Intanto in città tiene banco la polemica sull'accordo separato tra FIOM e GD, critiche dal segretario regionale della CISL Graziani, mentre da Bologna la numero uno della CGL Camusso dice è un modello da seguire, ma ritroviamo l'unità. Drammatico infortunio sul lavoro oggi in zona Corticella, è gravissimo in rianimazione un operaio 39enne rimasto schiacciato da alcune pesanti lastre di marmo che gli sono cadute addosso mentre stava scaricando un camion. Maxi truffa i danni di imprenditori e commercianti alimentari scoperta dalla squadra mobile di Bologna, tre uomini creavano società fittizie e ordinavano tonnellate di prodotti, poi dopo la consegna sparivano senza pagare. La fiera di Bologna chiude l'anno con numeri positivi, il calendario 2012 conferma tutte le manifestazioni più importanti del capoluogo emiliano, intanto da domani via al motor show per gli addetti ai lavori, sabato l'apertura al pubblico. Buonasera telespettatori, parliamo in apertura di economia e lavoro, due temi senz'altro molto di attualità. Arrivano sgravi fiscali e finanziamenti per chi assume giovani e punta sullo sviluppo. È la sintesi dell'accordo firmato questa mattina in regione tra i vertici istituzionali ed i rappresentanti di associazioni e parti sociali. Soddisfatto il presidente Vasco Errani che dice è un esempio per tutto il paese. Vediamo il servizio di Marco Rossi. Eccola qui la firma che guarda al futuro e che sancisce il patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'accordo presentato dal presidente della regione Vasco Errani è stato siglato con UPI, ANCEN, ANCI, Lega Autonomie, Union Camere, Sindacate, Associazioni di Categoria, ABI e Forum del Terzo Settore. Contiene misure per l'accesso al credito, per l'avviamento e la stabilizzazione del lavoro giovanile con un occhio molto attento al rispetto della legalità. Tanto che secondo la sintesi dell'assessore alle attività produttive Giancarlo Muzzarelli il patto è il bilancio della regione. Tra gli interventi già stanziati 20 milioni per il lavoro, 40 per l'economia di cui 7,5 per i consorsi fidi e almeno 10 milioni di euro per le politiche energetiche. Confermati anche gli impegni verso il lavoro giovanile attraverso lo strumento dell'apprendistato, le aziende che assumeranno i lavoratori saranno premiate con sgravi fiscali dell'IRAP. Qui c'è una scelta di tutto il sistema sociale, imprenditoriale, economico e istituzionale di questa regione che dice che dobbiamo affrontare insieme i temi della crescita inclusiva e sostenibile, del lavoro ai giovani, della sostenibilità e dei servizi per i cittadini, facendo uno sforzo di lavoro comune e responsabilmente, dicendo che questi obiettivi sono gli obiettivi di tutti. E' un dato molto importante in una situazione così difficile per l'Emilia Romagna e per l'Italia e per l'Europa. Io credo che sia un segnale politico di grande significato non solo per noi ma per tutto il Paese. Ed il patto per la crescita è stato accolto positivamente dal segretario regionale della CISL, Graziani, che ha invece commentato negativamente l'accordo raggiunto alla GD. Ci spiega tutto Massimo Ricci. Giorgio Graziani, il patto per la crescita in Regione, qual è il commento della CISL? Il commento è di grande soddisfazione, di apprezzamento per il lavoro svolto anche dalla Regione e un ringraziamento a tutti quelli che facevano parte del patto, perché non era semplice mettere d'accordo tutte le parti sociali con l'obiettivo comune di un rilancio di questa Regione, ma io credo anche del Paese, attraverso misure condivise. Misure che peraltro non sono soltanto i soliti sostegni economici all'impresa, ma è in particolare qualificato, io credo, dal fatto che abbiamo messo dentro un patto intergenerazionale che sostiene i giovani, in particolare l'occupazione femminile. Cambiando argomento, che cosa sta succedendo alla GD a Bologna? Ma alla GD sta succedendo, oggi ci sono anche i risultati del referendum, quello che speravamo non dovesse capitare proprio in questa Regione e proprio in un territorio come Bologna. È chiaro che da questo punto di vista l'impresa si è assunta una responsabilità, quella di riconoscere un elemento di un percorso rappresentativo, che peraltro non è di sua competenza, legato a condizioni appena siglate. Si è fatto un salto in avanti che noi non condividiamo assolutamente, non siamo disponibili nonostante i contenuti dell'accordo sono molto positivi e che quindi erano sicuramente condivisibili, non siamo disponibili a entrare in una logica che esclude gli altri sindacati e limitativo, che esca da regole unitarie che abbiamo sottoscritto insieme e che peraltro vede anche Confindustria completamente coinvolta. E sulla vertenza GD, Cisle e Will hanno minacciato di denunciare l'azienda per condotta antisindacale alla luce dell'accordo integrativo siglato con la sola FIOM CGL. Sulla vicenda è intervenuta anche Susanna Camusso, segretario generale della CGL. Non ne vedrei gli estremi, ha detto, mi pare difficile, suggerirei anche che bisogna riprendere la capacità di trovare soluzioni condivise. Credo che la soluzione sia che le categorie nazionali dei metalli meccanici, ha concluso Camusso, costruiscano insieme un modello generale per tutta la categoria. Ed ora siamo alla cronaca. Grave incidente sul lavoro questa mattina in via Andrea da Faenza in zona Corticella. Un artigiano di 39 anni è rimasto schiacciato sotto alcune pesanti lastre di marmo che gli sono cadute addosso mentre le stava scaricando da un camion. L'infortunio è avvenuto poco prima delle 10 mentre l'uomo stava facendo una consegna in una ditta a Lagovini e Gandolfi che si trova lungo la via Nicola dal Grande di origine vicentina ma residente a Bologna. È stato soccorso dai medici del 118 e portato all'ospedale Maggiore dove è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri e medicina del lavoro. In base alla prima ricostruzione la causa dell'incidente sarebbe l'improvviso cedimento di un anello della catena che assicurava il carico al mezzo pesante. Le pesanti lastre di marmo sono scivolate dall'autocarro dell'artigiano finendogli addosso e provocandogli lo schiacciamento della cassa toracica. La squadra mobile di Bologna ha scoperto una banda specializzata nelle truffe ad imprenditori e commercianti di prodotti alimentari su tutto il territorio nazionale. Creavano società fittizie, compravano merce per decine di migliaia di euro e poi sparivano letteralmente nel nulla. Tre gli indagati. Ci racconta tutto Federico Balletti. Quintali di pasta fresca, olio pugliese, bottiglie di vino e pregiati tartufi delle marche ma anche piante di olivo, computer e monitor. Si ora al mezzo milione di euro il valore della merce che una banda di truffatori con base fra Bologna e la Romagna è riuscita ad accaparrarsi e rivendere sul mercato nero dopo aver raggirato decine di ditte sparse su tutto il territorio nazionale. Soprattutto piccole aziende alimentari a gestione familiare ma non solo. Il trucco, smascherato dalla polizia che ha denunciato i tre organizzatori della truffa, era semplice. Creavano società fittizie del tutto inesistenti ma con nomi molto simili a quelle di importanti aziende del settore alimentare o del catering. Inventavano sedi commerciali, magazzini e depositi indicati in bella vista su biglietti da visita e fogli di carta intestata e con queste credenziali fasulle facevano grossi ordinativi di prodotti per decine di migliaia di euro che dopo la consegna non venivano pagati. Nel frattempo infatti la premiata ditta, come è stata ribattezzata l'indagine, scompariva nel nulla e un'altra veniva fatta nascere per truffare altre aziende. Premiata ditta proprio perché si spacciava per essere una ditta affidabile soprattutto nel settore alimentare. Utilizzando dei nomi simili o addirittura del tutto identici in alcuni casi cambiavano semplicemente una lettra maiuscola, minuscola oppure mettevano una lettera in più rassicurava i commercianti che venivano a contatto con queste ditte della solidità e solvibilità dell'impresa. Si parla di truffe di una ventimila euro a volta quindi diciamo che il danno è ingente. L'indagine della squadra mobile di Bologna che ha permesso di recuperare solo una piccola parte della refurtiva è nata dalla denuncia fatta lo scorso ottobre dal titolare di un pastificio a Pordenone, disperato perché il mancato pagamento di quell'ordine, si parla di circa 40.000 euro di merce, rischiava di metterlo sull'astrico. Nella stessa situazione, hanno scoperto gli investigatori, c'era un'altra ventina di imprenditori finiti nel mirino della banda. Gli indagati, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, sono un bolognese di 61 anni, ritenuto la mente e il ragioniere della banda. Un altro bolognese di 47 anni, l'unico incensurato dei tre, al quale venivano intestati gli affitti dei locali, usati come sedi delle società fittizie. Infine un 68enne di Forlì che si occupava di ricevere le partite di merce da rivendere sul mercato nero, soprattutto a negozi ma anche a ristoranti della Riviera. I tre indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, però sono ancora a piede libero. Cosa rischiano in sostanza? Sicuramente rischiano il carcere più avanti quando verranno raccolti gli ulteriori elementi. Diciamo che sono dei soggetti degli italiani in questo caso che hanno alle spalle anche numerosi precedenti di truffa e che quindi verranno sicuramente presi in considerazione nel momento in cui verranno giudicati. Ed ancora cronaca, otto arresti ed un ricercato, eroine e cocaina sequestrati. Il bilancio dell'operazione Montagnola conclusa dai carabinieri che dopo lunghi mesi di indagini sono riusciti a disarticolare un'organizzazione dedita allo spaccio di droga all'interno del parco della Montagnola. Gli scambi di denaro e di stupefacente avvenivano al chiosco che oltre a vendere bibite, gelati e piadine arrotondava spacciando droga. In manette sono finiti i titolari del chiosco, Fausto Milana e Monica Cantieri ed un folto gruppetto di altre sei persone, tra cui Marco Bombelli che fisicamente si recava ogni 20 giorni in Thailandia per rifornirsi di eroina e Fabio Guarracino che invece era il fornitore ufficiale di cocaina. L'organizzazione attiva nella zona della Montagnola già da quasi due anni utilizzava la terminologia legata ai gusti dei gelati per identificare la quantità e la tipologia di droga da spacciare ai clienti. E cambiamo argomento, torniamo a parlare dei discussi ticket sanitari introdotti dalla regione Emilia Romagna. Circa 6-7 mila firme sono state raccolte tra banchetti e siti internet dalla consigliera comunale Valentina Castaldini per cambiare la procedura di calcolo della tariffa ed introdurre il quoziente familiare. Ci spiega tutto Massimo Ricci. Un mese, un mese e mezzo dal lancio di questa raccolta firme contro l'applicazione e la modulazione dei ticket sanitari regionali, come è andata la raccolta, quali sono le sensazioni? Noi siamo veramente soddisfatti per il lavoro che è stato fatto in tutta la regione, c'è stata anche una buona adesione sul web, quasi mille firme e la cosa bella è che tutti i paesi, anche paesi piccoli, città della regione hanno fatto banchetti dove hanno trovato un'adesione molto forte a questo tipo di petizione, cioè l'introduzione del quoziente familiare che crediamo essere una delle cose fondamentali per rendere più eco questo ticket. Quindi alla luce di questi numeri che cosa chiedete alla regione? Domenica scorsa Bologna 7 diceva il tempo è scaduto. Sì, il tempo è scaduto, nel senso che si sta parlando ormai da un mese di che cosa fare sui ticket sanitari. Ecco, questa è una proposta concreta, cioè l'applicazione del quoziente familiare è cominciare a studiare un metodo per tener conto che la famiglia ha un altro peso. C'è stata un'apertura, abbiamo visto anche la volontà di ripensare al ticket, noi però chiediamo di non passare la palla ma che la regione sia responsabile sulla politica che fa e per cui veramente rifletta su che cosa fare sui ticket sanitari e dia una risposta a breve, brevissima. Il 2011 si chiuderà con il bilancio inattivo per Bologna Fiere, lo ha annunciato questa mattina il presidente dell'Expo Duccio Campagnoli al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione. Campagnoli ha presentato anche il calendario 2012 proprio per quello che riguarda le fiere. Sentiamo Giuseppe Pilloni. Presidente Campagnoli ha presentato il calendario delle fiere del 2012, ci sono delle novità? Chiudiamo un buon anno, credo anche economicamente di nuovo con un risultato che sarà positivo. Il calendario 2012 conferma Bologna Fiere come sede delle grandissime fiere dei nostri grandi distretti produttivi, dalla ceramica all'agroindustria alla motoristica, ma presenta significative novità. nuove fiere nella vocazione di questa città e quindi una manifestazione per la vocazione ad ospitare giovani e studenti, una iniziativa per la mobilità sostenibile, una iniziativa per la innovazione nella meccanica, una iniziativa che guarda alla nostra vocazione, alla formazione e all'educazione. Bologna Fiere deve poter dare un contributo a esaltare queste vocazioni di Bologna, città di formazione, educazione e innovazione industriale. Diceva del bilancio di Bologna Fiere, un bilancio positivo. 2011 si concluderà positivamente e nel 2012 speriamo non solo di poter contare su un bilancio in equilibrio, ma anche di poter aprire il capitolo della innovazione, innovazione degli investimenti. Bologna Fiere è una grande risorsa economica per il territorio, valutabile in centinaia di milioni di euro che vengono dall'indotto in tutti i settori, occorre che Bologna Fiere faccia la sua parte come impresa fieristica, ma occorre anche che il territorio, assieme a Fiera e Università, voglia ricominciare una corsa competitiva verso traguardi significativi. E dal 3 all'11 dicembre apre i battenti al pubblico la 39esima edizione del Motor Show. Quest'anno ci sono molte novità, come spiega Giada Marchetti, l'organizzatrice della Kermess. Sentiamo allora nel servizio quali sono queste novità che dovremmo attenderci dalla 39esima edizione del Motor Show. Giada Michetti, quali sono le novità dell'edizione di quest'anno del Motor Show? Sono moltissime, sono 48, 8 mondiali, 6 per il mercato europeo e tutto il resto credo 34 per il mercato nazionale, molto importanti, ci sono delle novità per il mercato italiano, soprattutto tra le Smart City che saranno per il futuro degli automobilisti italiani. A questo punto noi abbiamo inserito anche le nostre novità, cioè dei focus specifici oltre ad Electric City powered by Enel avremo Innovation Hall by Società Autostrade che riguarda tutte le innovazioni tecnologiche, soprattutto quelle dedicate alla sicurezza stradale e altri due inediti focus per noi che sono il lusso che è un regalo che facciamo ai nostri appassionati visitatori perché il lusso rappresenta il sogno e qui ci saranno veramente delle grandi supercar e poi le auto icona, cioè nell'anno delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia avevamo pensato ad una mostra importante che rappresentasse tutta la cultura dell'automobile e l'Italia credo che sia uno dei paesi che più di ogni altro possa vantare questa cultura. Quest'anno ci sono state defezioni di case automobilistiche oppure no? Ci sono state, come ci sono state sempre nei precedenti 35 anni del motor show, non abbiamo mai avuto un motor show completo, quindi scaramanticamente lo riteniamo un fatto positivo e naturalmente dal punto di vista oggettivo è un fatto negativo, credo che in un anno così difficile per l'economia e soprattutto per il settore, credo che sia una cosa probabilmente da aspettarsi. E dopo il motor show la pubblicità, rientreremo in studio fra poco con altre notizie. Restate con noi. Ancora in diretta rivediamo i titoli, gli argomenti del nostro telegiornale. Nel pieno della crisi la regione guarda avanti e punta sullo sviluppo, firmato oggi il piano di aiuti al lavoro e all'occupazione soprattutto per giovani e donne, soddisfatto Errani è un esempio per tutto il paese. Intanto in città tiene banco la polemica sull'accordo separato tra FIOM e GD, critiche dal segretario regionale della CISL Graziani, mentre da Bologna la numero uno della CGL, Susanna Camusso dice è un modello da seguire, ma ritroviamo l'unità. Drammatico infortunio sul lavoro, oggi in zona corticella è gravissimo in rianimazione un operaio 39enne rimasto schiacciato da alcune pesanti lastre di marmo che gli sono cadute addosso mentre stava scaricando un camion. Maxi truffa i danni di imprenditori e commercianti alimentari scoperta dalla squadra mobile di Bologna. In Bologna tre uomini creavano società fittizie e ordinavano tonnellate di prodotti, poi dopo la consegna sparivano senza pagare. La fiera di Bologna chiude l'anno con numeri positivi, il calendario 2012 conferma tutte le manifestazioni più importanti del capoluogo emiliano, intanto da domani via al motor show per gli addetti ai lavori, sabato l'apertura al pubblico. E andiamo avanti con il nostro telegiornale, le casse di Palazzo Malvezzi potranno contare per il 2012 su quasi un milione e mezzo di euro in più. La Giunta Draghetti ha deciso come impiegare quelle risorse aggiuntive ma il terzo polo è piuttosto critico. Gabriele Sciarra ci informa. Il bilancio 2012 della provincia di Bologna potrà contare su quasi un milione e mezzo di euro in più, per l'esattezza un milione e 343 mila euro provenienti dalla partecipata società reti metropolitane attiva nel settore del trasporto pubblico per effetto della distribuzione delle riserve. Un piccolo tesoretto che permetterà alle casse di Palazzo Malvezzi di coprire per l'anno prossimo alcune spese di esercizia storiche, come vengono definite, che per il 2012 si prevedeva di eliminare per mancanza di risorse. Una parte di queste andrà per la copertura delle quote associative, come quella all'Unione Nazionale e Provincie. Altre piccole risorse saranno destinate a enti, associazioni e fondazioni. Quel milione e 300 mila euro in più sono una buona notizia, commentano i consiglieri del terzo polo, Sabbioni e Tommasi. Sarebbe stato meglio, proseguono i due, utilizzarli però per una seppur simbolica diminuzione delle tasse applicate dalla provincia. Non viene risparmiato alla Giunta un elenco di balzelli sui quali Palazzo Malvezzi ha applicato la tariffa massima. Si va dalle polizie auto all'addizionale sull'energia elettrica, passando dalla reintroduzione della tassa sui passi carrai per finire agli autovelox disseminati sulle strade provinciali che continuano ad alimentare le casse dell'amministrazione. A questo proposito risulta inattivo il bilancio della Polizia provinciale a fronte di una previsione di spesa. Per quasi 5 milioni e 300 mila euro nel 2012 entreranno quasi 7 milioni e 300 mila euro, 6 milioni dei quali per sanzioni e reati del Codice della Strada. È stato presentato questa mattina il calendario per l'anno 2012 dell'arma dei carabinieri che celebra il cammino di avvicinamento al bicentenario della fondazione del corpo che cadrà nel 2014. Si tratta di una ventina di pagine in fine d'elegante rilegatura dove si traccia la storia del corpo dalla metà dell'Ottocento alla prima guerra mondiale. All'interno si ripercorrono alcuni episodi che nel corso del XIX secolo hanno visto protagonisti carabinieri valorosi impegnati nella lotta contro il brigantaggio e la malavita. Sfogliando le pagine si legge anche della nascita di alcuni corpi speciali importanti come quello dei corazzieri e delle fanfare, dell'impegno costante dell'arma durante le calamità naturali come terremoti, alluvioni ed epidemie. Il calendario che oggi è una tiratura di 1 milione 350 mila copie ed è tradotto in quattro lingue. Nacqua nel 1928 dopo l'interruzione post bellica dal 1945 al 1949 la pubblicazione del calendario venne ripresa nel 1950 ed allora con le sue tavole è diventata puntuale interprete delle vicende dell'arma e attraverso di essa della storia d'Italia che nel 2011 appunto ha celebrato i suoi 150 anni. Ed ora parliamo di spettacoli, tanti gli appuntamenti di questa sera in palcoscenico in con Alessia Salvatori alle 23 circa su Canale 10, Vito e Marina. Pitta portano al consorziale di Budrio, al Dutour di Matt con la partecipazione straordinaria di Nanni Garella, spazio anche all'Operetta, il paese dei Campanelli Alduse e il Conte di Lussemburgo al Deon dove domani andrà in scena anche la comicità con Imancio e Stigma nella nostra coppia è un trio. Imancabili gli spettacoli per i più piccoli al Testoni mentre il Comunale di Modena propone un'opera pop da camera e ancora l'Arena del Sole arriva a finale di partita di Samuel Beckett mentre al Teatro delle Moline continua la rappresentazione di Silvana Strocchi su Anita Garibaldi. Questo è molto altro a palcoscenico in questa sera alle 23 circa ovviamente sul Canale 10. Ed ora ancora la pubblicità poi rientreremo in studio per i saluti. Ancora in diretta rivediamo gli argomenti del telegiornale. Nel pieno della crisi la regione guarda avanti e punta sullo sviluppo. Firmato oggi il piano di aiuti al lavoro soprattutto per giovani e donne. Soddisfatto il presidente Errani è un esempio da seguire per tutto il paese. Intanto in città tiene banco la polemica sull'accordo separato tra FIOM e GD, critiche dal segretario nazionale della CISL Graziani mentre da Bologna la numero uno della CGL. Susanna Camusso dice è un modello da seguire ma ritroviamo l'unità. Drammatico infortunio sul lavoro oggi in zona corticella. È gravissimo un operaio 39enne rimasto schiacciato da alcune pesanti lastre di marmo che gli sono cadute addosso mentre stava scaricando un camion. Maxi truffa i danni di imprenditori e commercianti alimentari scoperta dalla squadra mobile di Bologna. Tre uomini creavano società fittizie e ordinavano tonnellate di prodotti poi dopo la consegna sparivano senza pagare. La fiera di Bologna chiude l'anno con numeri positivi. Il calendario 2012 conferma tutte le manifestazioni più importanti del capoluogo emiliano. Intanto da domani via al motor show per gli addetti ai lavori. Sabato l'apertura al pubblico. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie per averci seguito.